Sindaco Pierluigi Biondi vuole rivolgere gli auguri alla popolazione per questo Natale 2018 a un anno e mezzo dal suo insediamento. Buongiorno signor Sindaco. Buongiorno a voi e a tutti i vostri ascoltatori e spettatori per il Natale 2018 e anche per il 2019 naturalmente che è il nostro anno di svolta. Mi piacerebbe che fosse così vista la concomitanza dei dieci anni dal terremoto e sarà un momento in cui faremo il consuntivo di quello che è accaduto in questa città, in questo territorio negli ultimi dieci anni, gli straordinari passi in avanti che sono stati fatti ma anche un'analisi dei problemi perché i problemi rimangono e non possiamo far finta di nulla dalle crisi occupazionali che ancora abbiamo alle necessità di dare maggiore slancio alla ricostruzione pubblica ma soprattutto più in generale cercare di ricostruire quel clima di normalità che il terremoto ci ha fatto perdere. Io però sono fiducioso perché i segnali sono incoraggianti e credo che con uno sforzo ulteriore da parte delle istituzioni pubbliche si possa dire che l'Aquila è una città in cui il peggio è passato. E lo vogliamo sperare, lo vogliamo raccontare. Il nostro sforzo di seguirla nelle sue tantissime attività quotidiane è proprio questo e all'inizio di questa intervista per fare gli auguri agli ascoltatori, ai lettori del capoluogo ci siamo trovati in questo unanime sentire io e il sindaco di voler dare una nota positiva perché la grinta, la forza, la determinazione ha sempre contraddistinto gli Aquilani ed è giusto ed è importante che con le luci di questa città, che con il sorriso si possa riportare gli Aquilani a sperare nel riavere una bella città, in una bella vita. Sì, al di fuori dei luoghi comuni e anche di un ottimismo eccessivamente iperbolico che non tiene conto della realtà. Io credo che bisogna declinare in positivo le nostre esperienze. Se noi volessimo lamentarci di tutto ciò che non va, ogni giorno vorremmo fare un elenco infinito ma lo vorremmo fare non soltanto nei confronti della pubblica amministrazione ma anche dentro le nostre case, anche con i rapporti con i figli, anche dentro la scuola in tutti gli elementi di formazione che hanno le comunità è che come una famiglia bisogna cercare di sì capire dove sono i problemi ma individuarli e cercare di avere uno sguardo, diciamo così, come si usa nei confronti dei figli un po' discoli uno sguardo comunque di affettuoso rimprovero nel senso che servono per migliorare le cose e io devo dire che comunque questa città degli elementi positivi ci sono elementi positivi che sono dati, intanto è ogni giorno più evidente che per esempio il centro storico viene rivissuto da tante persone ne ho avuto riprova visiva soprattutto in occasione dell'estate trascorsa e di tutti gli eventi culturali che si sono fatti un centro storico che dal terremoto per un certo numero di anni è stato buio, abbandonato, cupo poi strada facendo è diventato soltanto luogo di una parte di città quella legata alla Movida cosiddetta oggi invece è un luogo che ha la sua parte di Movida, i suoi studenti, i suoi chiassosi studenti universitari, chiassosi positivamente dico ma che ha anche famiglie che passeggiano, genitori che portano i loro bimbi in centro insomma è un percorso difficile, lo sapevamo il giorno dopo il 7 aprile 2009 nessuno pensava che con un colpo di bacchetta magica si potessero risolvere tutti i problemi e che il percorso sarebbe stato lungo e faticoso dico di contro però che noi abbiamo un privilegio che noi siamo testimoni del più grande ed incredibile processo di rigenerazione non solo urbana, non solo edilizia ma sociale direi che la storia recente di questa nazione ricordi le emozioni che noi proviamo ogni volta che ci riappropriamo di un pezzetto di città sono emozioni di un'intensità incredibile rispetto a quelle che provano altri io devo dire che queste emozioni le stiamo vivendo perché dall'inaugurazione della Basilica di Colle Maggio proprio oggi è un anno? proprio oggi è un anno esattamente la riapertura della chiesa delle anime sante oggi facciamo due settimane invece per quanto riguarda le anime sante nel corso del 2019 dovrebbero finire i lavori a Palazzo Margherita prima ancora saranno finiti i lavori a San Filippo a giugno abbiamo salutato la bellezza dell'emiciclo che si è aperto alla città a marzo-aprile 2019 dovremmo avere Palazzo Ardinghelli a seguire Natale 2019 o i primi mesi del 2020 il teatro comunale con pezzi anche di spazi urbani lanceremo a breve un concorso di progettazione per Piazza Duomo e anche per un luogo significativo di una delle frazioni della città dell'Aquila nel frattempo porteremo a compimento in approvazione il piano urbano della mobilità sostenibile che è un tema molto sentito e a tal proposito stiamo definendo gli ultimi dettagli del project financing del progetto per il parcheggio a San Bernardino e stiamo chiudendo l'accordo definitivamente con l'Ater per utilizzare Portaleoni sempre per i parcheggi così come stiamo lavorando con IMS e con ASL per avere l'ex-INAM su via 20 Settembre per fare anche lì delle zone a parcheggio abbiamo approvato il nuovo piano di assetto delle scuole cittadine abbiamo finalmente dato una chiave di lettura univoca sulla progettazione del cimitero monumentale e poi la cura delle aree verdi un rinnovato interesse nei confronti del decoro e dell'arredo urbano la cabina della Smart City le iniziative, gli eventi sportivi la tappa del Giro d'Italia che c'è stata sia quest'anno a Campo Imperatore sia nel 2019 con l'arrivo in centro storico la riapertura degli impianti di sci dopo l'anno orribile l'anno nero è necessario per rifare l'impianto delle fontari l'anno nuovo avremo anche degli incentivi importanti per l'occupazione per il lavoro che saranno caratterizzati da 10 milioni per l'accesso al credito al microcredito in particolar modo e 10 milioni di euro per il cosiddetto bando turismo per le attività artigianali, di trasformazione, commerciali ripartite 6 milioni e 3 per il comune dell'Aquila e 3 milioni e 7 per i comuni del cratere stiamo portando avanti degli importanti progetti di ricerca e di innovazione la sperimentazione 5G i progetti che facciamo con l'università e con il Gran Sasso Science Institute insomma c'è molta carne al fuoco quello di cui forse c'è ancora necessità è una cabina di regia rispetto ad una strategia complessiva cioè dove dobbiamo indirizzare le risorse come le dobbiamo mettere, perché, qual è il progetto generale che sta alla base di tutti questi impegni anche di tutte queste opportunità perché comunque l'Aquila è una città delle opportunità mi è capitato recentemente ero a Bruxelles perché l'Aquila fra l'altro è stata selezionata unica città italiana nella prima call nell'ambito del progetto Digital Cities Challenge cioè le città in trasformazione digitale ed è stata ammessa solo l'Aquila insieme ad altre 15 città europee abbiamo sottoscritto una convenzione tutti insieme e mentre stavo firmando il vicepresidente della commissione del comitato per gli affari regionali quando ha chiamato l'Aquila e io sono andato a firmare mi ha detto io all'Aquila ci sono stato segno di prima del terremoto quindi non sull'onda emotiva in cui moltissimi hanno conosciuto l'Aquila ma lui già conosceva l'Aquila segno di una città che è stata per anni una città europea, una città internazionale una città conosciuta insomma veniva definita la Strasburgo d'Italia per la sua vivacità per la sua vivacità culturale e quindi c'è l'università che è ormai arrivata è tornata ad avere 20.000 studenti di cui il 40% sono da fuori regione in cui ti capita di andare a una parte e trovare due premi Nobel seduti vicino insomma tutto questo non ci può lasciare indifferente poi è evidente che a fronte di questo c'è il problema dei lavoratori ex-intex c'è il problema dei call center di care che scontano delle difficoltà importanti i lavoratori della verdeacqua c'è una diffusa esigenza sociale di sostegno all'occupazione al reddito insomma non è che parliamo solamente di cose positive però gli sforzi in questa direzione sono molti e l'amministrazione comunale fa la sua parte per cercare di rendere questa città più accogliente di creare prospettive anche per i più giovani anche per chi oggi sconta delle difficoltà importanti Signor Sindaco allora vuole rivolgere attraverso le nostre telecamere i suoi auguri agli Aquilani e alla città dell'Aquila visto che poi questo è davvero il primo Natale targato giunta per Luigi Piondi Sì, il mio augure a tutti naturalmente è quello di un Natale sereno di un 2019 che regali delle soddisfazioni io auguro a tutti di saper vivere a pieno i loro affetti familiari e di ritrovare un rinnovato spirito di comunità perché la comunità è qualcosa di diverso rispetto alla società cioè la comunità significa trovare gli elementi che ci legano in un momento in cui tutto ci dice che dovremmo rinchiuderci nei nostri egoismi nelle nostre individualità rispetto alla società che invece è il concetto opposto e auguro naturalmente che il tema centrale delle politiche nazionali regionali e locali sia proprio quello dedicato al lavoro perché è l'unico elemento che garantisce a territori difficili come i nostri territori appenninici territori delle aree interne di unire alla qualità ambientale alla qualità architettonica e anche alla qualità della vita la possibilità di evitare uno spopolamento che sembra inarrestabile Dove trascorrerà le sue festività il sindaco Biondi? a casa con mia moglie mia figlia gli amici di sempre starò qui non vado non vado fuori il 31? il 31 credo a casa non sono un appassionato del capodanno anche perché a differenza del politico classico io vado a dormire sempre molto presto la sera nonostante l'età nonostante la giovane età sì stamattina abbiamo presentato un progetto dice Resto al Sud che rivolto ai giovani verrà ampliato fino ai giovani sotto 45 anni ho detto ottimo perché significa fino al primo dicembre 2020 cioè quando compirò 46 anni sarò ancora annoverato in questa categoria sì però se posso due giorni fa due o tre giorni fa che ne ho avuto l'opportunità alle nove ero già a letto fantastico e allora dallo studio del sindaco Biondi i nostri auguri per un sereno natale a tutti quanti gli aquilani e soprattutto per uno scintillante inizio sì e anche soprattutto a tutti coloro che fanno il vostro lavoro che è un lavoro fondamentale per aiutare nella narrazione di questa città e di questo territorio quindi vi prego narrazione corretta soprattutto positiva mi raccomando quindi l'impegno è cerchiamo di allentare i comunicati conferenze almeno fra Natale e Capodanno così ci riposiamo anche noi allora buon Natale a tutti grazie a tutti voi